Torre in pietra il castello per eventi e cerimonie in un'atmosfera fatata a Pietra dei Fusi, Avellino 0825 19 31 778 Emozione, commozione e tanti ricordi è quello che si vive in queste ore nei piccoli comuni dell'Alta Irpinia E sì, perché il primo e due novembre i piccoli borghi della zona più interna della provincia di Avellino vedono il rientro a casa di tanti cittadini, ormai residenti altrove, alcuni all'estero, per un saluto a chi non c'è più I cimiteri diventano luogo di preghiera, di tristezza, ma anche di incontro e di saluti, fiori, lumini e luci votive per commemorare i defunti e le strade adiacenti ai luoghi sacri che si popolano di persone e di macchine Nessuna lamentela in Alta Irpinia in queste ore per i prezzi utilizzati dai vari venditori per queste due giorni in tutti i comuni come Conza, Bisace, Andretta, Morra, Teora e tanti altri a controllare la situazione E la Polizia Municipale per evitare problemi con parcheggi e soste vietate Mentre in comuni più grandi come Sant'Angelo dei Lombardi, Lioni, Calitri c'è un vero e proprio piano traffico come spiega ai microfoni di Telenostra Pietro Avallone della Polizia Municipale di Sant'Angelo dei Lombardi Non ci sono problematiche per quanto riguarda il traffico veicolare, quindi è tutto tranquillo stamattina Io sono in servizio dalle 8 con il collega, poi ci sta l'altro collega che fa il turno di pomeriggio Quindi problemi grossi, grossi, grossi non ce ne sono Per quanto riguarda parcheggi, ci sono degli ampi parcheggi ultimati poco tempo fa dall'amministrazione alle spalle del cimitero E poi dai vari parcheggi davanti Nessuna problematica, tutto sta andando per il meglio perché la gente arriva al cimitero, fa la visita e va via e quindi il traffico è abbastanza scorrevole Una due giorni dunque di ricordi dove non mancherà un pensiero da parte di tutti per chi ha perso la vita nella notte che ha segnato per sempre l'Alta Irpinia Quella maledetta notte del 23 novembre 1980